Musica Dopo, dopo poi faccio un discorsetto, perché il discorso del maestro arriva sempre, nei momenti tragici e nei momenti piacevoli, quando c'è la staccarmi la testa e quando c'è la mettermi la polpa. Musica 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 come on let's go everybody ride here ride cowboy ride ride cowboy oh 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 Grazie per la visione! Grazie per la visione!